Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha sequestrato nel corso di due distinte operazioni di servizio circa 40.000 mascherine e 200 termoscanner non a norma. Un primo intervento è stato eseguito dalle fiamme gialle della prima compagnia di Salerno che a seguito di una segnalazione al numero di pubblica utilità, il 117, si sono recate presso la sede di un noto grossista nella zona industriale della città, rinvenendo quasi 1700 mascherine FFP2 che non rispecchiavano i requisiti essenziali di qualità stabiliti dalla normativa vigente. In particolare, oltre alla falsa marcatura CE apposta peraltro solo sulle confezioni, non anche sui singoli dispositivi, privi di ogni informazione di dettaglio, è stato riscontrato che il Certificate of Compliance, il documento a garanzia della conformità alle specifiche caratteristiche tecniche, era stato rilasciato da un ente non abilitato alla valutazione di quella tipologia di presidi. I successivi approfondimenti hanno inoltre consentito di ricostruire la filiera di distribuzione rintracciando così un punto vendita di Giffoni Vallepiana in provincia di Salerno presso il quale le mascherine erano già state messe in commercio. Sempre qualche giorno fa i finanzieri della compagnia di Cava dei Tirreni hanno a loro volta scoperto un negozio di elettronica del centro metelliano, in cui i dispositivi commercializzati erano del tutto sprovvisti del marchio comunitario. Si tratta di circa 30.000 tra mascherine e termoscanner, senza neanche la descrizione in lingua italiana, forniti da un consorzio farmaceutico di Fisciano, dove i militari durante un successivo sopralluogo hanno trovato ulteriori 8.000 pezzi non a norma. Al termine delle due attività di servizio sono stati così sottoposti a sequestro un totale di circa 40.000 prodotti irregolari del valore commerciale complessivo di oltre 220.000 euro, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, dal momento che non risultano correttamente testati. Il rivenditore salernitano e l'esercente di Giffoni sono stati denunciati alla locale procura della Repubblica per frode nell'esercizio del commercio, reato punito con la reclusione fino a due anni. Tuttora al vaglio, invece, la posizione di due commercianti di Cava e Fisciano, i quali rischiano una sanzione amministrativa fino a 7.000 euro.